La vita non era come oggi. La gente doveva lavorare duramente anche solo per sopravvivere. Perché le capre? Fa silenzio Paolino e lasciami proseguire. Gli anni passarono e come succede in molte storie, la realtà si mescolò alla fantasia e divenne leggenda. Gli anni passarono e come succede in molte storie, la realtà si mescolò alla fantasia e divenne leggenda. Una grande festa che da 1998 ha luogo a Cavriana, dove tutte le contrade sfilano con abiti rinascimentali. Chissà chi sarà quest'anno a vincere la capra d'oro. Chissà chi sarà quest'anno a vincere la capra d'oro. Chissà chi sarà quest'anno a vincere la capra d'oro.